Grazie Matteo Salvini, segretario Lega Nord, tornato quarto partito in Italia per il momento perché vogliamo crescere ancora. Orgoglioso di sedere a questo tavolo in questa alleanza per la speranza contro tutto quello che è unico, la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico. Finalmente ci sarà un'opposizione a quei trattati internazionali che svendono il nostro futuro, la nostra agricoltura, il nostro commercio per l'interesse di qualcuno, non uomini ma consumatori, secondo Bruxelles invece noi diciamo uomini, non merce, non profitto, non mercato, non consumatori, uomini e donne. Che ci sia qualcuno preoccupato di questa alleanza, di questa presenza è un buon segno, che ci sia qualcuno che fa un processo alle idee e se ne frega dei morti in Ucraina è un pessimo segno e noi saremo qua anche a smontare l'ipocrisia dei minuti di silenzio che ogni tanto fanno a Strasburgo per pulirsi la coscienza quando c'è una convenienza economica e quando invece non c'è la convenienza economica tutto può passare sopra le teste e sopra i corpi degli esseri umani. Siamo partiti in pochi, siamo in cinque all'apertura del Parlamento di Strasburgo, l'obiettivo è di essere l'unica, grande, coerente, coesa e credibile opposizione alla frittata di democristiani e socialisti che già ce la stanno preparando.